ok 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 ho capito dalle 6 di mattina che sono svedio io e ora sono le 10 e finalmente ci possiamo muovere buongiorno a tutti oggi andiamo a vedere delle belle cose in giro qui a sisa cat che vi faccio vedere qui in questo video va bene benvenuti nel mio canale se non sei ancora iscritto fallo che tanto è gratis anche per te sì e non devi spegnere dalla luce come ha detto la meloni per un'ora al giorno no no nel mio canale poi poi lasciare accesa la luce anche il video va bene allora si un'ora al giorno un'ora al giorno ecco questo è il tempio vat pra Sri Monkong Ratanaram ecco questo è il tempio vat pra Sri Monkong Ratanaram spero che l'ho detto bene perché è molto molto difficile da pronunciare comunque questo tempio questo posto è stato creato tipo come un magazzino per tutti i reliche che hanno preso religiosi del buddismo le hanno portati qui in questo in questo posto in questo tempio che si può anche pregare ecco ci sono tante belle cose da vedere perciò andiamo scoprirli ora insieme e poi dicono che a sisa cat non c'è niente tutto noioso qua di là su e giù destra sinistra io certa gente non la capisco va bene venite con me ok qui all'entrata di questo bellissimo un posto e ci troviamo sempre assi sacchette è che siamo fuori chissà dove mezz'oretta da casa nostra io ho già fame ho fatto colazione alle 6 di mattina però appunto ora andiamo a vedere guarda che bel posto bellissimo posto ok lasciamo fuori le scarpe come si fa anche in india speriamo che devi ritorvarli in india le disappear so andiamo andiamo ma chi se ne frega sono solo scarpe da 200 euro questo è un po' di coffee shop eh ah sì 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 dopo che andiamo qui state zitti e state in silenzio a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non so se si vede perché la luce è un po' scarsa qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono anche i pipistrelli. Comunque come spiegato già prima sono tutti i reliti dall'India che hanno sposto qui in questo tempio. E' fantastico, veramente bello. Grazie a tutti. Andiamo a vedere. Questo chiaramente in puro oro, tutto, magari. Andiamo qui, andiamo qui. Andiamo a vedere qui. Portatevi delle giabatte diciamo se vi andate a visitare un tempio perché camminare così non è molto divertente. La prossima volta lo so anch'io. Molto bello. Wow. Guarda che dragone. assomiglia un po' a Mario. Andiamo a vedere qui. Andiamo a vedere qui. Oh, guarda qui. Oh, guarda qui. Molto bello. Andiamo a vedere qui. Andiamo a vedere qui. qua. Allora questo tempio con i reliti dall'India e ora andiamo a prendere un bel caffè che ci vuole proprio ora veramente un bel posto. Mia moglie è stata già qui e per questo io avevo detto a lei che lo vorrei vedere quando arrivo io perché è veramente un bellissimo posto. Anche l'aria è molto bella l'aria c'è qui bel posto è mi è piaciuto mi piace bene bene allora caffè ora. Ah, solo una cosa la strada per venire qui è un po' bugata perciò state attenti se venite in macchina ci sono certe fossi qua certi certi buche che io le ho presi tutte eh. Darling, I was missing you. Shall we go first, coffee? Andiamo a prendere il caffè dai. Ok ora andiamo al big sea, big sea big hungry. Una fame. Mamma si è beautiful. Mamma si è bella. Dopo questo buonissimo pranzo che chiaramente abbiamo fatto anche il bonus con una bella pizza dal Pizza Hut. andiamo a casa ora piano piano eh. Attenzione attenzione ecco. vedete qui c'è un'altra un altro sicuramente un fallo anche ha fatto questa casa un casone un villone. Ok siamo tornati qui. Hanno già quasi finito il tetto. L'hanno isolato anche bene. Ora vediamo. Qua devo stare attento di non spaccarmi la capoccia. Oppa. Ecco fatto. Molto bene. Molto bene. Allora vediamo. Allora vediamo. Eccolo vediamo. ha detto che posso fare video mentre lei lavora e io mi godo questa magnifica magnifico cosa qua questa magnifica vista ecco questo che volevo dire molto bello che devo dire molto tranquillo un'aria bella fresca bella però devo dire che hanno fatto dai sono contento ancora chiaramente non è finito è perciò ci sono ancora un paio di buchi qua e di là però verranno chiusi dopo io già mi vedo qua dentro allora dove l'ufficio aspetta mi sembra che sono qui già nel mio ufficio o questo o no forse prenderò questo questo qua sarà il mio ufficio qui sarà il mio ufficio ecco questo è il mio ufficio questo invece la camera da letto sì sì allora qui qui poi facciamo il muro sì 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 magari si va a mangiare un'altra volta e che siamo fortunati vediamo un po oggi qui c'è festa un 24 dicembre natale assista cat ora vediamo ok 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 e spegniamo perché sono qua copyright cena quella che piace a me ha Mitsu no. Mitsu non mi piace questo, eh? Questo è... ah, un uccanico, eh? Molto bello. Molto bello. E' un po' di pesce. Escutiamo un po' di tutto, pesce, fegato, carne, verdura, pasta. Questo vi posto un visito. Buon Natale. Ok, ok. Very nice. Mmm, che mangiata oggi. Tutto bollito. Molto sano. Mushrooms, eh? Yuhuuu! Allora, grazie mille. E noi ci vediamo nel prossimo video. Buon Natale a tutti da SisaCAD. Ciao ragazzi!